Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Ripartiti i lavori sulle scogliere, ora tocca a quelle di Baia Metauro L'Isippo, nuova sentenza in arrivo per riaverlo a Fano Autovelox, la provincia destina il 50% degli introiti per il rifacimento delle strade Domani venerdì nero per i trasporti e sciopero nazionale Cartocetto dopo il festival sarà un altro fine settimana denso di eventi Buonasera dalla redazione di Fanno TV, benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia Questa mattina di buon'ora, davanti alle scogliere di Baia Metauro Il motopontone della ditta Slimar di Chioggia ha riniziato a mettere su, masso su masso Su quelle che sono le scogliere che fanno parte del secondo stralcio dei lavori Proprio per il loro rifacimento Vediamo il servizio Scogliere di Fano parte seconda dopo Viale Ruggeri e Anfiteatro Rastat Ora, grazie ai fondi della regione e risorse interne comunali Sono partiti i lavori per le scogliere di fronte a Via Fratelli Zucari Che ormai la furia del mare aveva ridotto al lumicino Un intervento atteso da tempo dagli operatori balneari Che nel tempo per l'azione violenta delle mareggiate Si sono visti portare via metri e metri di arenile stagione dopo stagione Due stralci da 200.000 euro l'uno consentiranno a questa parte di Costa Fanese di godere dei medesimi benefici Di cui in questa stagione, anche se il tempo è stato clemente, hanno potuto beneficiare le altre concessioni Sopra la scogliere esistente e tutti gli altri scogli nuovi Perché come potete vedere, molte della scogliera in molti punti è calata E quindi quello dovremo rimpinguare e far sì che il profilo ideale sia ricostruito su tutte le scogliere E il livello di ottimale è 1,10 sopra il medio mare Noi speriamo di farlo sicuramente entro la fine dell'anno Ma molto siamo vincolati dalla nave che deve portare la pietra della corazza Perché purtroppo dobbiamo reperirla da là E come vettori in pratica ce n'è uno solo per cui dobbiamo affidarci a loro Il costo di questi lavori è in parte coperto da fondi regionali? Sì, una parte del Comune di Fano, la stragrande maggioranza dei fondi sono comunque regionali Per questo ringraziamo ovviamente la Regione Marche per aver permesso questo finanziamento I consiglieri regionali che si sono adoperati perché questo potesse avvenire E la Regione Marche ha finalmente riconosciuto quello che è la realtà Cioè la costa del Comune di Fano che arriva fino a Marotta È una tra le più estese della Regione Marche E quindi ha ripartito i fondi secondo questo criterio Noi abbiamo ottenuto un finanziamento importante Che come potete vedere stiamo sfruttando a pieno E dalle manutenzioni in mare passiamo a quelle sulla terraferma, quelle stradali Quindi la provincia di Pesero Urbino in accordo con i comuni Destinerà il 50% dei proventi delle sanzioni per violazione E dei limiti di velocità sulle proprie stradali provinciali Accertati dagli autovelox o da altri strumenti di controllo a distanza Alla manutenzione o messa in sicurezza di quelle stesse strade Anche attraverso la segnaletica e barriere Lo sottolinea il Presidente Daniele Tagliolini Che aggiunge è la manifestazione più evidente del nuovo ruolo della provincia Come casa dei comuni manterremo gli investimenti per la sicurezza stradale Nei territori dove sono state accertate e sanzionate le violazioni E rimaniamo in ambito stradale Perché anche a Fano sono ripresi i lavori di manutenzione Questa volta sono le strade rurali a ricevere il loro trattamento Agglomerante steso quasi a freddo E mescolato a graniglia di due finezze differenti Con tre passaggi consecutivi Per uno strato finale di tre centimetri Posato sulla sede stradale con un macchinario speciale Una tecnica di asfaltatura Quella che il Comune di Fano sta attuando per le strade rurali Messo a punto con l'Università di San Marino Che aveva visto un test alcuni mesi o sono Su un'arteria secondaria Il risultato essendo stato soddisfacente Ha fatto sì che ora dopo opportuna preparazione Anche altre strade comunali che necessitano di intervento Ricevano questa metodica a basso impatto ambientale E con un ottimo rapporto costo-beneficio Permettendo così di aumentare il chilometraggio asfaltabile Si usa spesso perché poi riesce a essere anche più flessibile Rispetto a un conglomerato bituminoso Che rimane comunque più rigido Qua poi ci sono i mezzi pesanti Le nostre campagne spesso sono terreni che sono in continuo movimento Piccole frane, sestamenti Perciò abbiamo visto che da noi Se tu fai quei classici 3 cm di conglomerato bituminoso Poi questi movimenti creano delle spaccature, delle rotture Invece questo strato tende a essere comunque un pochettino più flessibile Rende impermeabile la fondazione Perciò l'acqua non riesce a penetrare sotto In più i fumi classici di una sfaldatura tradizionale Qui non ci sono E anche l'effetto finale Anche a livello visivo e ambientale È molto più integrato rispetto a quello che può essere La striscia nera di conglomerato classico Le immagini di questa mattina sono dell'operatore Filippo Pucci Rimaniamo in ambito stradale Però andiamo a Pesaro Perché è partita oggi la sperimentazione della rotatoria In via Mameli tra il centro Benelli e il Troni Prime impressioni positive In un post del sindaco Matteo Ricci Continueremo a verificare gli effetti nei prossimi giorni Ma siamo fiduciosi Avanti Pesaro Questo era il suo post su Facebook E parliamo adesso di lavoro e di imprese Sono della provincia di Pesaro Urbino Le due start-up più innovative delle marche La Listen CO di Fanoe e la Edilmag di Pesaro Rispettivamente prima e seconda Al premio Cambiamenti 2017 Concorso indetto dalla CNA Che scopre, premia e sostiene Le migliori imprese italiane nate negli ultimi tre anni La segnalazione delle aziende marchigiane Una quarantina a quelle iscritte È stata fatta da una giuria di esperti Della quale faceva parte anche L'Università Politecnica delle Marche L'Inset ECO di Fano è un laboratorio specializzato In collaudi e analisi tecniche Dei prodotti di ricerca dei materiali compositi Bene E caro a tutti L'Isippo, la statua ripescata davanti alle coste fanesi C'è all'orizzonte un'altra data molto importante Sentiamo quale Dopo la sentenza di confisca Dell'atleta di L'Isippo Da parte del Tribunale di Pesaro Successivamente annullata dalla Cassazione Per vizi procedurali Si avvicina una nuova sentenza Che lo stesso Tribunale Dovrebbe pronunciare verso metà dicembre Per il recupero della preziosa opera d'arte Rinvenuta in mare dai pescatori di Fano Ed in possesso del Polghetti Museum di Malibu In California L'assessore al turismo e cultura delle Marche Moreno Pironi Ha incontrato il sindaco di Fano Massimo Seri I rappresentanti dell'associazione Le Cento Città E l'università degli studi di Urbino Carlo Bo Per fare il punto sulla vicenda Per la regione Marche E per il comune di Fano Ha detto Pironi La restituzione della statua dell'Isippo Allo stato italiano È un obiettivo da perseguire Con grande determinazione Trattandosi di un'opera Di grande valore storico e artistico Finita negli Stati Uniti Nelle circostanze Oggi oggetto di controversia La regione segue da sempre Con attenzione Il tormentato sviluppo Delle vicende giudiziarie in corso Con il pieno sostegno Delle amministrazioni pubbliche Interessate A vario titolo Al rientro in Italia Di questo prezioso Reperto bronzeo Serie ha ringraziato Le cento città Per l'impegno profuso Nel sostenere la causa E tutta la magistratura Per il puntuale lavoro Fin qui svolto Sono certo Ha detto il sindaco di Fano Del risultato positivo E siamo pronti Ad accogliere L'atleta vittorioso Nel miglior modo possibile Bene Cambiamo argomento Domani Per chi si sposta Per lavoro O per altre ragioni Con i mezzi pubblici Sarà una giornata Impegnativa Perché ci sarà Uno sciopero Dei trasporti A livello nazionale Indetto dall'Unione Sindacale di Base Insieme a Cobas E Unicobas Coinvolgerà I lavoratori Di aziende pubbliche E private Che gestiscono Il traffico Ferroviario Aereo E dei mezzi pubblici Locali E durerà 24 ore Gli orari Saranno diversi A seconda delle città E dei soggetti Coinvolti Trenitalia Ha comunicato Che le frecce Viaggeranno regolarmente Per quanto riguarda I treni regionali Lo sciopero Inizierà Alle ore 21 Del 9 novembre E finirà Alle 21 Del 10 novembre Saranno garantiti I treni essenziali Quindi tra Le 6 del mattino E le 9 E tra le 18 E le 21 Per quanto riguarda I trasporti Locali Adriabus Rende noto Che le fasce orarie Interessate Dallo sciopero Sono quelle che vanno Dalle 8.30 Fino alle 17 E dalle 20 A fine servizio Durante le quali I servizi di partenza Da capolinea E stazioni terminali Potrebbero non essere garantiti Sono esclusi però Dallo sciopero I servizi per disabili E gli scuolabus Quindi i genitori tranquilli Insomma che hanno I figli che devono essere Prelevati dagli scuolabus Non ci saranno Né ritardi Né intoppi E parliamo di eventi A Cartoceto Ci sarà un altro Fine settimana Denso di eventi Sentiamo quali Dall'assessore Domenica e sabato prossimi Un altro weekend A tutto olio E a tutte manifestazioni Sì Si replica C'è il secondo weekend Di Cartoceto Dopo il festival La 41esima mostra Il mercato Dell'olio e dell'oliva Come dicevi Si apre sabato 11 novembre Con lo spettacolo Del teatro Dei trionfo Di ragazze Alle 15.45 Che ha ottenuto Un grandissimo successo Sabato scorso E verrà replicato Appunto sabato prossimo E nel tardo pomeriggio Di sabato 11 novembre Un evento Molto atteso Dalla cittadinanza La presentazione Appunto Dalla cittadinanza Delle tre antiche D'opere Le tre antiche opere D'arte religiose Restaurate Nella chiesa Dei santi Pietro e Paolo Che verranno Precedute L'inaugurazione Dalla celebrazione Della santa messa Cocelebrata Dai nostri due parici Questa è diciamo Una grande Una grande novità Ecco bisogna ricordare Anche che quest'anno Chi viene da voi Gode di uno spettacolo Speciale La piazza Completamente aperta Ristrutturata In tutto il suo splendore Sì Finalmente Quest'anno Abbiamo aperto Completamente La piazza Dove Come storicamente Avviene Si celebra Il mercatino Dei produttori Quest'anno Sono tantissimi E' stato più volte Detto che questa E' un'annata Meravigliosa Dal punto di vista Qualitativo E quantitativo Quindi Il mercatino Dei produttori In piazza E poi Tutte le grandi Manifestazioni artistiche Da Greta Pannettieri Al Teatro del Trionfo Alle 18.30 Di domenica 12 novembre Dai concerti Jazz dal balcone Con Massimo Morganti Fino a arrivare La Pifanghi Una Mercing band Di ben 15 elementi Quindi Insomma Non ci sarà Da annoiarsi Quindi Rivolgiamo Tutti quanti Un invito Venite Ad acquistare l'olio Ma a vivere anche Cartoceto Sicuramente Per tutte le altre Informazioni Vi invito A visitare La pagina Facebook Di Cartoceto Turismo Dove appunto Troverete Tutto il programma Di questi due giorni Sabato e domenica Prossima E rimaniamo in argomento Perché in contemporanea Alla mostra Mercato Per l'olio Dop di Cartoceto E' arrivato Un altro riconoscimento Importante Presentata Questo pomeriggio Al Fico di Bologna Davanti a tantissimi giornalisti Sin dalla regione Marche Che da quelli nazionali L'associazione Food Brand Market Il progetto Multifiera Mai realizzato In Italia Il primo In assoluto Che punta A promuovere L'agroalimentare Di qualità Delle Marche In Italia E nel mondo E' proprio La fabbrica italiana Contadina Che aprirà Il prossimo 15 novembre Alla presenza Del premier Paolo Gentiloni La prima vetrina Dove l'associazione Marchigiana Presenta Le proprie Eccellenze Assieme al Food Brand Market Dopo l'importante Presenza All'Expo Di Milano Anche Cartoceto Con il presidente Del consorzio Tutela Della DOP Cartoceto Unita DOP Olearia Delle Marche Tommaso Maggioli E il sindaco Del comune Di Cartoceto Enrico Rossi L'obiettivo E' sfruttare Attraverso Un polo Enogastronomico Regionale Unico E forte Le opportunità Offerte Dai programmi Di promozione In ambito Nazionale Ed europeo Ricordiamo Che la DOP Di Cartoceto E' l'unica DOP Olearia Delle Marche Quindi Vanto Insomma Regionale In Italia E nel mondo Appunto E Per quanto Riguarda Le mostre Rimaniamo A Fano Perché ce n'è una Che volge al termine L'esposizione Temporanea Del politico Di Monte San Pietrangeli In corso Alla Pinacoteca San Domenico Che volge al termine Domenica prossima 12 novembre Sarà infatti L'ultima Delle giornate Di apertura Alla pubblico A conclusione Dell'iniziativa Che ha riscosso Un grandissimo successo La fondazione Cassa di risparmio Di Fano Organizza un incontro Di studio Presso la sala Di rappresentanza Della propria sede Per sabato 11 novembre Alle ore 17 Per discutere Delle ipotesi Attributive Sul dipinto Tratteranno La questione Rodolfo Battistini Claudio Giardini Claudio Maggini Giulio Ugolini E Walter Scottucci Con il coordinamento Di Alberto Berardi E Daniele Di Otalevi Se non l'avete visto Andatelo a vedere Perché è di una bellezza Veramente impressionante E insomma Pochi giorni ancora E poi Ritornerà Al suo luogo Di origine Dopo il telegiornale Box Naturalmente Poi in cucina Con lo chef E uno speciale Realizzato Ad Urbino Sui prossimi E futuri Sposi Dal titolo Urbino Ti sposa Bene Grazie per essere stati In nostra compagnia Occhio La notizia termina qui L'informazione torna domani mattina Alle 7.30 Puntualmente in diretta Con Occhio ai giornali Buon proseguimento Di serata Grazie per la visione